Babi significa 64 anni di storia fatta di passione per il prodotto, rispetto per le tradizioni e una vera e propria ossessione per la qualità, soprattutto per quanto riguarda la selezione e la lavorazione delle materie prime. Tutto questo si traduce nei nostri prodotti, quei piccoli piaceri quotidiani che possono essere fatti di cialda, di wafer o di gelato che oggi sono diffusi in più di 70 paesi nel mondo. Ovviamente ci presentiamo anche a questa edizione del SIGEP con importanti novità per quanto riguarda i nostri prodotti e ingredienti per gelateria e pasticceria, nuove basi, nuove paste, nuovi variegati, nuovi topping. La cosa che ci preme evidenziare di più è la nostra continua attenzione a quelle che sono le abitudini e le esigenze alimentari dei nostri consumatori. Da sempre abbiamo un'offerta molto ampia di prodotti gluten free, di prodotti per intolleranti al lattosio. Quest'anno abbiamo valorizzato in particolare prodotti per consumatori vegani. Grazie alla certificazione Vegan OK presentiamo quest'anno un catalogo con 170 referenze, tra le quali anche i coni, dedicati a questa tipologia di clienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.